Oltre 2 miliardi e mezzo già impegnati e in gran parte spesi per il raddoppio della statale 640 Porto Empedocle Caltanissetta, della 189 Agrigento Palermo e della A19 Palermo Catania ed altri 10 miliardi da spendere nei prossimi anni sempre in Sicilia equamente divisi tra rete stradale e ferroviaria. Sta in queste cifre la sintesi della visita ai cantieri dell'Agrigento Palermo e della strada degli scrittori compiuta ieri dal ministro per le infrastrutture Graziano del Rio che ha incontrato i giornalisti accompagnato dal presidente di ANAS Gianni Armani e di CMC Ravenna Alfredo Fioretti. L'incontro si è svolto nella nuova doppia galleria a Cozzo Garlatti che bypasserà Caltanissetta. Abbiamo visitato i cantieri per aggiornarci sulla situazione ha detto il ministro del Rio e ritorneremo tra fine novembre e dicembre. È volontà del governo accelerare affinché al più presto si consegnino ai cittadini queste importanti opere viarie. Il nostro approccio è serio e i fatti smentiscono che le opere non si possono fare. Del Rio non ha fatto solo bilanci ma ha tracciato anche programmi. Queste sono opere importanti e maestose ma non ci fermeremo qui. Nel nuovo contratto di programma con ANAS ci sono 23 miliardi di euro per nuove opere. Di questi 12 miliardi sono per il sud e la Sicilia. Dopo la conferenza stampa il ministro del Rio si è spostato al comune di Caltanissetta per incontrare gli amministratori locali con cui fare il punto sui temi specifici e locali. Buone notizie sono state fornite a margine della conferenza stampa con il ministro del Rio anche dal presidente dell'ANAS Gianni Armani. Abbiamo già 873 milioni di euro da spendere per 84 diversi interventi sulla A19 Palermo-Catania che dovranno concludersi entro la fine del 2019, ha detto Armani, che ci consentiranno di riaprire per intero tutti i viadotti e le corsie finendo questa situazione precaria. Il presidente di ANAS ha aggiunto che per il viadotto all'uscita della galleria Santeria c'è già un'ipotesi di progetto con una spesa tra 4 e 5 milioni di euro. La struttura andava chiusa perché anche questi giorni abbiamo accertato la precarietà.